ciao ragazzi oggi è stata una giornata dedicata alla sfida quindi in un minuto più push up possibili questa sfida è stata veramente dura prova per tutti quindi una dura prova per tutti prova a guardare cosa abbiamo combinato non so chi ha vinto tanti si sono messi alla prova io mi sono messo alla prova quindi adesso comincerò a contare ho montato o monterò questo video il più dettagliato possibile il premio è una lezione privata con il coach online o direttamente sul posto se tu hai qualche domanda o vuoi partecipare alle prossime sfide mi iscrivi sotto se hai qualche dubbio mi iscrivi anche ti dico subito qui sotto ci sono tutti i miei link ai vari tutorial se ti piace il coach iscriviti al canale o al massimo lascio mi piace noi ci vediamo alla prossima e tu allenati bene ciao allora ragazzi prima partecipante barbara la nostra musicista vediamo quanti ne va in un minuto cronometro alla mano pronto barbara 3 2 1 via forza parte più rapida più rapida forza 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 dai che ci siamo in quel modo forza 5 secondi 5 va più bene dai giù ok bene abbiamo tre insieme roberta luca e mario raggiù in fondo quindi cronometro alla mano più push up possibili in un minuto occhio 3 2 1 via forza 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 roberta dominale più so forte dai mario raggiù in fondo forza 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 e luca troppo largo le mani 5 secondi ancora via il massimo il massimo 2 1 ok 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 e abbiamo luca pronto anche lui 3 2 1 via forza ti ricordo pancia ti ricordo pancia che toccatella e le braccia completamente distese forza 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 vai 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 5 secondi ci siamo luca 3 2 1 allora ragazzi tocca anche a marco e a testina quindi pronti 3 2 1 via forza forza fino alla fine fino alla fine fino alla fine quindi cristina 3 2 1 ragazzi quindi ci siamo anche franco si mette alla prova 3 2 1 via ragazzi niente po po di meno che il gran maestro si mette alla prova un minuto sempre più push up possibile considerate che io non faccio questo per lavoro quindi non perdete stefano non calciare scuse va bene io ci provo 3 2 1 via distendi bene le braccia distendi bene ok forza stefano 10 secondi rimangono stefano dai guerriero dai guerriero dai guerriero dai guerriero ok ok 3 2 1 ok pronto sei ed anche francesco ci prova un minuto pronti 3 2 1 via ok forza 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 3 2 1 ok grande grande per me lo faccio e anche Michela ci prova qualcuno nascosto là dietro che non volete essersi pubblico quindi proviamo occhio alla schiena 3 2 1 via vai giù Michela vai giù vai giù vai giù vai giù forza 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 vai 3 2 1 e vai e ci prova anche francesco pronti 3 2 mi raccomando su a terra ti tocca 1 via scendi bene le braccia dai dai 15 secondi proviamo 3 2 1 e niente non era l'ultima quella di prima ma è giù quindi proviamo giù si pronta via 3 2 1 via 10 secondi vuoi partecipare alla sfida? 5 secondi 3 2 1 ok ragazzi ci prova anche Francesco quindi ultima prova di oggi Francesco la roccia c'è? 2 1 via 30 secondi vai 15 secondi ancora rallenza dentro o non mollare vai non mollare vai non mollare vai 10 secondi riposati riposati fommelo lato 5 secondi vai 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 1 un altro ancora l'altro ancora 2 1 stop ok ci siamo sempre che ci siamo ok ragazzi è arrivato il turno del coach siamo pronti forse è stato bene forse è l'ultimo ragazzo vediamo un attimo come sarà capo coach mi raccomando mi raccomando con la testa non vi plurriare no no ragazzi ci siamo infatti 3 2 1 adesso adesso siamo in 5 4 3 2 2 ok ciao ragazzi ho messo il massimo ed è il momento di domenico vediamo quante ne riesci a fare ciao ragazzi ci siamo siamo pronti dai 3 2 1 via perco 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 tocca con la faccia via ti senti bene 5 secondi non guardate mi dà la fine 3 2 1 stop 6 6 7 8 11